A 12 giorni dall'udienza fissata per il 21 agosto al Tribunale di Milano arrivano rassicurazioni da parte di Clementi a seguito dell'incontro di mercoledì 9 agosto nello stabilimento Fimer di Terra Nuova Bracciolini, tra i rappresentanti del Fondo Inglese e i sindacati. Clementi ha confermato la piena disponibilità di mettere risorse finanziarie necessarie alla ripresa produttiva, scrivono CGL Cisleguil. Dice che sta lavorando attivamente per stringere i tempi dell'attuazione del piano, in modo da presentarsi al Tribunale di Milano con tutte le carte regola per ottenere l'ammissione al concordato e avviare le attività industriali e produttive di supporto al piano concordatario. I 5 milioni che dovevano essere versati entro la scorsa domenica infatti non sono arrivati perché Clementi ha proposto nuove forme di investimento, ossia una cifra ben più consistente per garantire il pagamento di fornitori e rimettere in moto pienamente la produzione ma senza depositare liquidità nelle casse della Fimer. I sindacati puntualizzano adesso di rimanere vigili e in attesa di sviluppi concreti, consapevoli concludono che occorre un'urgente iniezione di capitali per scongiurare infausti scenari.